Parliamo ora dell'edizione di quest'anno di Videocinema e Scuola, il concorso internazionale di multimedialità che si è svolto a Pordenone. Anche quest'anno hanno partecipato migliaia di tutta Italia e anche dalla Spagna. C'erano giovani dalle scuole primarie all'università che hanno avuto l'opportunità di far conoscere le videoproduzioni realizzate per approfondire i temi più svariati. Tra i premiati allievi da Bari, Piacenza, Gorizia, Trieste e naturalmente anche da Pordenone. L'entusiasmo con cui l'evento di premiazione è stato accolto anche quest'anno ci conforta nella consapevolezza che si tratta di un'iniziativa preziosa, ha sottolineato l'organizzatrice Maria Francesca Bassallo.